Weeeh! Non fare il babbo! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDARONE! Weeeh! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDAR e ragazzi video soluzione per le sfide palla 8 vs palla in buca ci chiede di nuotare nei pressi dei cartelli dove è di vieto nuotare. Ad esempio ragazzi questo dove siamo molto semplice esattamente nell'isola quella in basso a destra della mappa vicino al pontile quindi siamo davanti al cartello direi che ci possiamo buttare tranquillamente e come vedete la prima è fatta. Per quanto riguarda invece il secondo e ultimo cartello di divieto di nuotare è molto semplice bisogna raggiungere la diga quella in poche parole che si trova tra lago languido e pantano palpitante. Insomma dove c'è la centrale elettrica forse non lo avete mai notato ma proprio qua dove c'è questa radice poggiata sulla spiaggetta c'è il cartello numero 2 di divieto di balneazione. E quindi prendiamo ci buttiamo e la sfida è completata io vi ringrazio tantissimo per avere guardato anche questo video vi ricordo ce ne sono tanti altri per le soluzioni della patch 11.40 sul canale noi siamo i live su twitch e a presto ciao. Grazie a tutti.